mister saltarelli finalmente si è tornato in campo innanzitutto partiamo da qui una bellissima partita tanto agonismo in campo tanta voglia di ricominciare a giocare questo si è davvero visto dalle tribune assolutamente da entrambe le parti le tue squadre hanno poi con un tempo così la pioggia che non smetteva mai è stata veramente una battaglia una battaglia finalmente siamo riusciti a parlare solo di calcio e si parla di calcio stata una partita insomma dura tosta da tutte e due le parti però come dicevi te giustamente l'importante è ripartire e speriamo di continuare così una vadese che è sembrata più cinica rispetto al quigliano valeggia che comunque ha creato tante tante occasioni si chiude diciamo in bellezza una settimana che per voi è stata abbastanza travagliata tra dubbi sul format del campionato possibilità di essere inseriti in un altro girone però insomma è finita nel migliore dei modi come ho detto prima voglio parlare solo di calcio parlato di calcio si effettivamente devo essere sincero abbiamo concesso qualcosa in più loro sono stati magari meno cinici di noi nell'occasione che abbiamo avuto poi verso la fine abbiamo avuto due un paio di occasioni occasioni che potevamo che potevamo chiuderla ma effettivamente loro diciamo che nelle occasioni se il quigliano pareggiava non c'era nulla da dire assolutamente ci poteva stare benissimo però il calcio è anche questo domenica scorsa noi abbiamo perso per due episodi e così oggi è andata così e il calcio è questo alla fine è quello che conta alla fine per noi per più che questo è anche l'esordio che abbiamo fatto in prima categoria nella nostra breve storia del calcio doppio orgoglio la prima partita in prima categoria vince un derby del genere con tutte le mille difficoltà ci rende veramente orgogliosi e cerchiamo di continuare così Cosa si aspetta da questo campionato che inevitabilmente sarà particolare rispetto a quelli passati? Assolutamente il campionato abbiamo già detto hanno già detto tutti che è molto particolare ci adeguiamo ci adegueremo e vedremo cosa ci riesce a fare io e i ragazzi quello che ho detto ma penso che lo dicano un po' tutti l'obiettivo massimale nei mini gironi a nove è arrivare nei primi quattro nel senso arrivando nei primi quattro vuol dire che sei già salvo matematicamente poi dopo il problema se arrivi dal quinto in giù allora magari vai a giocarti l'altro gironcino noi come ho già detto noi siamo una squadra anche giovane ci sono arrivati tanti innesti anche del 2002 del 2003 ripeto siamo alle soglie abbiamo con umiltà ci affrontiamo questo campionato di prima categoria che non abbiamo mai fatto cerchiamo cerchiamo di arrivare prima possibile a quel livello lì se arriviamo quarti bene speriamo di non arrivare i quinti nel senso però sicuramente ci sono tante squadre buone tutte da battagliare e sarà sicuramente un campionato breve ed è importante secondo me questa vittoria perché è importante fare i punti subito secondo me il punto di vista